Uccidetelo! Ah ma io stavo seguendo quello che andava sbagliato No è lui Assassino Eh appunto vanno male No 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 non lo liberare ora vai avanti Cioè vai Ok basta basta Un po' indietro Io mi metto qua sulla destra dietro la bocca Questa è la collinetta così ti dico se vedo arrivare qualcuno Poi ha qui si Bravo bravo Pene P Mi raccomando che non vale le kill nello spawn 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 esatto Allora dove spariamo dove spariamo Chiaramente ci siamo in una posizione che non si capisce niente Infatti tu c'è il pericolo Cioè non è pronto Ah ok Allora Vedi quelle macchie Mi ha anche raggiunto Una specie d'edificio Si si spara Eh che cazzo Eh micchia gridi madonna Ah bravo si no no E' arrivo da laggiù Ah Ah signore Un limb Un limb Un limb Un limb Benefissima No Comunque la figoria Cosa cerca di risparare me Però non ce la fai No no Non faranno noi Bravissima Bravissima Sì Medaglia Medaglia Com'è Miani Non lo so Miani Ma entrambi Non ci so C'è 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 Se Sbaglio loro stanno dicendo o loro stanno perdendo? Stiamo perdendo, abbiamo fatto un doppio Vabbè, ma no come scorre? Perde che arriva a zero o vince che arriva a zero? Non perde che arriva a zero Sì, mi tengo un cesto Strano Vabbè, ma se è crash, con me c'è morto E' ancora pieno di gente lì alla casa Piani! Sì 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 Mi dispiace Dove esattamente? Ma siamo tre cannoni siamo Sì Tutti Tutti È stato Legend Un po' Complimenti Filippo per la tua prima kill Eccezionale Che sicurata Non manchia voi davvero È stato Dove sono a fare? Mi dipengo, va Non compremmo a te Non compremo niente Mento euro vi dovete Mento euro per cosa sempre lì a dentro andiamo ah ma adesso c'è l'altro ma non c'è il morto ma di Dio che è il morto andiamo a destra andiamo a destra andiamo stasera, non c'è il meraviglio fermo guarda che forti come viene a venire qua dove ci mettiamo io sto con la priviera ma perchè abbiamo usato un cannone? 2,2,2 ok stiamo uniti però e a me mi ha fermato una linea di fanzeria mi ha fatto davanti non sassino cosa fai? dove vai? mi sono visto assassino dove fai? niente non sassino vieni questa posizione qua ma noi abbiamo due reggimenti di fanteria che ci coprono ha visto l'ho preso lì l'artiglia spena ha capito? venghi qua un attimo eh che cazzo non rispondi 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 dio assassino 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 vieni qui che ti chiamiamo assassino oppure un altro non lo so questo muore che ti chiamato è Andrea arcibaldo dai vieni stai giuando il mio filone roncar venghi venghi vedi che muore lei che cosa fai? avrì la cavalleria avrì la cavalleria avrì la cavalleria venite la cavalleria ah vabbè tanto c'è la panterna eh sì ho ritirato strategica questi cavalli super agili venite venite oh 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 fermo ma c'è la cavalleria ma che c***o è grande io poi c'è il suo difese aiuto faiciato No! Oh mio Dio! Aiuto! Aiuto! Aiuto, miralo a me! Oh, aia! M'ha abbastato! Aiuto! No, vabbè! Guarda, sono in due! Ok! Già, perché non ritorna a Rangler? Sono morto! Vabbè, io ce l'ho chiamato! Spalmati a The Shark! No! Guarda, dite che cosa dici? Guarda, qui! Torna a Rangler! Mettetevi i Rangler, sì, perché sennò dopo... ...toppi i cannoni! Guarda, che dopo c'è proprio una condizione eccezionale! No! Ma come ha fatto? No, c'era un cavallo! Però io direi di risparmare a The Shark! Guarda che cazzo manca! Non dirvi! ... 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